Ascoltiamo Mozart New Look, arrangiamento di Michele Mangani. Full Funk Amedeus Mozart è annoverato tra i geni della musica. Dotato di raro talento, manifestatosi precocemente, morì a 35 anni di età lasciando pagine indimenticabili. Questa sera vi proponiamo alcuni dei temi più belli in un arrangiamento moderno e accattivante. Mozart New Look di Michele Mangani. Ascolteremo La piccola serenata notturna, dal flauto magico La regina della notte, dal Don Giovanni L'acida re in la mano e per concludere da Le nozze di Figaro non più andrai far fallone amoroso. A voi Mozart New Look. Grazie. 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 Grazie.